Musica Ultimo atto di questa quinta edizione della Sicily Football Cup per la categoria Under 17 dedicata ai classe 2006 in campo per la finalissima Flasnia contro Segato Live da Lenzo Vasi di Piraino al commento Claudio Costanzo E Antonio Caroe, buonasera a tutti, buonasera Claudio Iniziato il match, allora da destra verso sinistra rispetto ai vostri videoschermi Attacca il Vlasnia in maglia rossa azzurra, risponde in tenuta giallofluo a inserti bianco e neri La Segato, Versace invece alle cross, il tentativo di acrobazia Che bella l'idea di Giuseppe Diano, non riesce però ad impattare bene sul pallone Potrebbe arrivare però un nuovo tentativo di traversone, invece no, scarico lì indietro Movilia col destro, gran parata dell'estremo difensore della Vlasnia Fabian Lecai che mette in calcio d'angolo Un gran cambio di versante su Diano, può andare all'uno contro uno Diano Gioco di gambe, sterza sul centro-destra, pensa alla conclusione Tra le braccia di Lecai, ancora Diano Giro, quello che ti dicevo poco, anzi, rischiano la giocata Tocchio però dall'altro lato il Vlasnia all'occasione di passare in vantaggio, colpevo numero 17, scartato anche il portiere Poi perde l'attimo propizio, dentro ancora in area di rigore, sposta il pallone sul destro Gran parata sul tentativo del numero 10, Cubazzi Tischi alla fine del primo tempo, superato il 22esimo, non c'è stato recupero e ancora 0-0 tra Vlasnia e Segato In questa finale della categoria 2006, quinta edizione della Sicily Football Cup Noi ci prendiamo qualche minuto di pausa, ci risentiamo ovviamente per il secondo tempo Sempre qui, dai HDP Rino Prima e il secondo tempo, magari avranno potuto recuperare l'energia i ragazzi dopo una quattro giorni Così forse è nato, occhio però qui, Versace carica il destro Le squadre sono correttissime comunque, nonostante l'agonismo Attenzione qui al lancio in zona Leca, il rimpallo lo premi, attenzione ancora Il tentativo vincente, il Vlasnia si porta in vantaggio Arkel Leca al minuto 8, approfitta di un'incomprensione, anzi o meglio di un rimpallo molto sfortunato Tra un difensore l'estremo, difensore della Segato Serrao Il Vlasnia con Liga punisce i calabresi e vantaggio è 1-0 in questa finale 2006 della Sicily Football Cup Alza le braccia a chiamare uno schema Ara Il destro avvolgente a cercare sul secondo palo il colpo di testa E il gol derrà doppio da parte di Eri Gestino Pep Nikai per il 2-0 della Vlasnia In tre minuti hanno messo la finale in discesa Dopo un primo tempo davvero molto, molto equilibrato Dopo che la Segato aveva dato l'impressione anche di poterla portare a casa questa finale Adesso si è messa e come a soffiare il vento albanese Qui all'Enzo Vasi di Piraino Noi vi salutiamo così con la premiazione della formazione albanese Dandovi appuntamento alla prossima edizione Un saluto alla prossima e una serenissima Santa Pasqua a tutti voi